La disoccupazione è un problema che attanaglia tutta l'Italia, ma i dati preoccupati, secondo l'ultimo quadro dell'Istat, riguardano anche e soprattutto la provincia di Foggia. Diversi progetti messi in campo dalla regione per far fronte al problema reddituale, come il RED, ma altri ancora vengono attuati dalle singole amministrazioni comunali, come Sansevero che nei giorni scorsi ha approvato il documento unico programmatico inserendo un sostegno in più ai disoccupati. Già lo scorso anno, in via sperimentale, l'amministrazione comunale ha coinvolto i cittadini disoccupati in attività di formazione destinate ad un futuro impiego. Riqualificare alcuni settori, dichiara l'assessore alle politiche sociali, Simona Venditti. Infatti, i cittadini senza impiego verranno reinseriti nel mondo del lavoro, andando ad arricchire il loro curriculum in base alle necessità del territorio, ad interagire con l'amministrazione comunale e anche le imprese che potranno proporse la ricerca di candidati secondo il piano attuato per l'emergenza. Abbiamo pensato a quattro target, spiega l'assessore Venditti, per le donne sole, per i nuclei familiari che non hanno avuto accesso al RED, per singole persone che non riescono a percepire sostegni reddituali e per tutti i cittadini fuori dal mercato del lavoro e che appartengono alle fasce di età under 35 e over 55. Al momento l'amministrazione di San Severo ha stanziato 76 mila euro per quattro progetti che ingloberanno 40 cittadini. Ma come ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali, l'intento è di raddoppiare la cifra dei beneficiari del piano.